informazione avete visto che bella grafica che che ha fatto che abbiamo fatto con i nostri non so come chiamarli vedete qua faccione di salvini ciao bruna al mitico brunetta ciao cetti poi da questa parte lo stia al mio dito quello qua il migliore tra i migliori peggiore tra i peggiori questa qua che applaudiva mattarella dopo aver risparato addosso letta berlusconi il mitologico calenda e quindi abbiamo sgarbe ve l'ho fatto vedere però buonasera colleghiamoci forza ragazzi colleghiamoci colleghiamoci e condividiamo ecco oro cupone salvatore buonasera ragazzi grazie di esserci anche stasera puntata aperta voi protagonisti ovviamente io ho messo un paio di argomenti querinale perché ieri ha votato ieri ha giurato il presidente e presidente mattarella ho messo anche scuola con il tentativo di rimediare al caos da parte del migliore ministro bianchi e così via vi volevo spiegare un attimino i messaggi come vengono vengono scelti perché nell'ultima nostra puntata di lunedì dove abbiamo parlato di tutto quirinale alcuni di voi in tanti stavano chiedendo chi sceglie i messaggi che vengono messi in sovraimpressione e che a cui poi io cerco di dare una risposta o fare un commento vengono scelti dal mio collaboratore che sta che gestisce tutta diciamo la piattaforma su cui ci appoggiamo e vengono scelti ragazzi in mezzo a migliaia e migliaia di commenti quindi si deve districare emanuele in mezzo a tutte queste migliaia di commenti e ovviamente la scelta viene fatta in base alla pertinenza con l'argomento l'argomento trattato quindi se qualcuno scrive cento volte la stessa cosa però esula dall'argomento che stiamo trattando non mettiamo in sovraimpressione il messaggio ok allora io direi che dopo questa carrellata di saluti che fanno sempre un sacco di piacere direi che potremmo iniziare la nostra puntata di contro informazione io non vi sto a dire più nulla in particolare del quirinale perché vi ho raccontato tutto in una lunga puntata di lunedì ciao fabrizio ciao pamela e quindi io direi vogliamo iniziare volete iniziare voi con le domande io vi dico quirinale semplicemente perché posso raccontarvi un po le sensazioni che ho vissuto ieri durante quei circa 40 minuti di intervento del presidente rieletto mattarella e ve lo oggetto già la cosa ciao valeria la cosa che ha più stupito dal punto di vista politico erano gli applausi della meloni che dopo aver contestato con tutte le forze la rielezione del presidente mattarella e la meloni voleva draghi quindi voleva trasformare diciamo lo dico eufemisticamente metaforicamente la nostra repubblica parlamentare in una sorta di monarchia in una sorta di quello che ehm giorgetti definiva come un presidenzialismo di fatto no caro giorgetti perché se vuoi il presidenzialismo modifiche la costituzione e fai quelli che chiamano i bravi check and balance cioè i bilanciamenti del potere non è che va uno con una grande grande potere tecnocratico eh a livello anche europeo e grandi relazioni con i tecnocrati europei essendo stato a capo della della BCE anche se ha costituzione invariata va a ricoprire la carica di presidente della Repubblica diventa di fatti un presidente anche dell'esecutivo e capo dell'esecutivo no cari mie questa questa non è democrazia quindi questo è un po' ditemi voi io aspetto le prime vostre domande vi do questo canovaccio iniziale se vogliamo affrontare ancora il tema del Quirinale lo facciamo e io rispondo alle vostre domande su come anche è andata ieri la giornata e poi dopo affrontiamo qualsiasi altro argomento dal nuovo decreto eh sull'ennesimo decreto sul sul covid e la gestione green pass didattica a distanza eccetera 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 allora scuola ma non avete sottosegretario non abbiamo rappresentanza in quella in quel in quel ministero purtroppo e quindi eh abbiamo visto che ci sono parecchie difficoltà e Bertozzi Igino ma Calenda che problemi ha non so che non so che cosa abbia detto o che cosa abbia fatto Calenda però evito di rispondere perché stai tranquillo che se sbaglio una mezza parola mi querela mi querela certamente Calenda ce l'ha col Movimento Cinque Stelle anche se gli costruisse di fronte un ponte d'oro tempestato di diamanti lui ce l'avrebbe comunque perché ce l'ha in maniera pregiudizievole nei nostri confronti comunque non so che cosa abbia cosa abbia fatto Angelo Toninelli non ti vergogna mostrare la tua faccia traditore e tue stesse lettori sparisci Angelo trovami un solo argomento prima di uscire da questa diretta perché sennò ti caccio io perché non ho proprio necessità di avere personaggi come te su che cosa avrebbe il sottoscritto tradito gli elettori forse sei tu che hai tradito la tua capacità celebrale di poter ragionare o no forse andiamo avanti Francesco Zampetti l'azzolina l'hanno massacrata ed era un ministro eccezionale l'azzolina l'hanno massacratasi non come sottoscritto ma certamente più di tantissimi altri ministri del Movimento Cinque Stelle perché semplicemente stava facendo il suo mestiere ragazzi miei perché semplicemente voleva fare i concorsi sapete che cosa significa fare i concorsi nella pubblica amministrazione ambito istruzione che entrano i giovani entrano i giovani entrano i migliori quelli che hanno le competenze e la voglia invece sapete che cosa volevano fare tutti gli altri i sindacati della scuola quasi tutti e il partito democratico così vicino a questi sindacati volevano lo scorrimento delle graduatorie che erano sulla carta sulla carta capito sulla carta qui nessuno controlla nessuno sai quindi dagli all'azzolina perché facendo i concorsi non c'era più la carta con l'elenco dei nomi ma c'erano i concorsi e di conseguenza c'era la competenza no e risultati giulianelli fernando bella fernando non vedo la foto di di maio caro mio di maio non è un leader politico non è un leader di partito e qua dentro ci sono praticamente solo quelli manuela mi dice ansia di maio conte grande lucia si ansia di maio conte si ansia anche un po di di stanchezza ti dico la verità perché non esiste quando sei nei cinque stelle e capisci che l'unico faro che ti proietta la luce e ti illumina la strada per fare quello che devi fare da membro del movimento cinque stelle stai tranquillo che di litigi di braccio di ferro di sgomitati o di sgambetti non ce ne sono io sono qua con il ruolo da portavoce al movimento grazie a sottoscritto ma no io faccio solo il mio dovere con i miei limiti le mie capacità grazie a beppe grillo e a già roberto casaleggio luigi di maio ha fatto certamente un lavoro straordinario quando è diventato capo del movimento cinque stelle grazie a lui abbiamo vinto stravinto le ultime elezioni del duemila e diciotto poi si è dimesso sempre se sempre è stato ministro in questi quattro anni e da meno di un anno anzi secondo me sei mesi è arrivato conte conte è il presidente del movimento cinque stelle detta l'indirizzo politico ha bisogno di uno squadra compatta di buoni consiglieri che non lo vedano come un mezzo per ottenere magari qualche vantaggio il terzo mandato ma che lo vedono come un mezzo per per rendere sempre più forte il movimento cinque stelle che significa continuare a realizzare i nostri programmi le nostre idee ok maurizio fanelli danilo dovete andare nei talk siamo stufi di subire attacchi rispondimi maurizio ti rispondo molto molto volentieri allora ehm io non sono così convinto non sono così convinto che andando nei talk si risolva qualche cosa perché la eh debolezza del movimento cinque stelle non è dovuta al fatto che si va nei talk eh non si vada in in televisione la debolezza è perché è capitato anche al movimento cinque stelle che dopo essersi scottati la manina alcuni dei nostri magari non la mettevano più per scottarsela un'altra volta ma la tiravano indietro quindi una certa debolezza anche da parte di nostri esponenti al governo una certa debolezza in generale perché la gente normalmente non fa ragionamenti di contenuto particolare cos'è che dice vi siete alleati prima con la lega vi siete alleati poi col partito democratico dicevate mai con questo dicevate mai con quello e l'avete fatto è una delle cose che mi ripetono per la strada io gli rispondo sempre sì 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 hai ragione essere arrabbiato però ti faccio una domanda mi dici una sola cazzo di legge eh porcheria porcata contro gli interessi della gente che abbiamo fatto risposta sì ma non avete avete comunque fatto avete tradito avete fatto l'alleanza con quelli di Bibiano avete fatto l'alleanza con quelli ehm eh della lega di di Salvini sì 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 ok scusa se l'abbiamo fatto ma eh mi dici una cazzo di legge contraria all'interesse generale una legge porcata una legge da persona ma una legge ad azienda ma che abbiamo fatto scala il silenzio quindi basta il movimento che torni forte torno intransigente che quando parte un decreto da eh dal governo che non va bene il casino iniziamo a farlo al governo i nostri ministri lo devono fare il decreto sostegni affossa il super bonus 110 per cento limitando ad una sola la cessione del credito tale è il punto che il cazzo deposito e prestiti e poste si sono levati tutti i crediti che avevano in pancia ok perché erano i secondi o terzi cessionari e quindi da lì che parte il casino no basta che tornare un po' forti e fammo tante cose Danilo cosa pensi del post di Grillo sulla vanità? Beppe vola sempre alto grazie a Dio grazie a Dio Beppe vola sempre alto e chiamarlo l'elevato penso sia il modo migliore per descrivere il nostro garante e la nostra storia e Beppe dice semplicemente che ha fatto bene a scriverlo eh dice semplicemente che lui ha creato qualcosa di straordinario eh e questo qualche cosa di straordinario che è anche un insegnamento straordinario perché Beppe fa nascere insieme a già Roberto Casaleggio il Movimento 5 Stelle il giorno di San Francesco che non ha rubato non ha tolto agli altri si è spogliato di quello che aveva per darlo agli altri e queste lotte interne che hanno motivi più o meno diversi certamente dobbiamo essere chiari tra di noi possiamo essere possiamo dircelo c'è anche quello del terzo mandato capite bene che questa roba qua non rispetta il dono che Beppe ci ha che ha fatto noi attivisti e noi portavoce perché non lo viola lo viola in tutti i principi e lo viola nell'altezza e nella grandezza del dono che ci ha fatto quindi andiamo avanti torniamo ad aprire gli occhi e a fare le cose per bene Maria Emilia Baldizzi come si evolverà il rapporto tra Conte e Di Maio che ci siano grossi problemi relazionali tra i due mi sembra del tutto evidente proprio questo del tutto evidente però io vorrei capire anche il perché c'è perché Luigi dice una cosa normalissima dice serve un chiarimento ok lo dice di fronte alle telecamere sbagliatissimo non puoi dire di fronte alle telecamere una roba del genere che riguarda la tua famiglia e quindi è evidente che venga sia stato interpretato come lui evidentemente affronto un'apertura di duello tra di tra lui e Conte la domanda è ma sull'argomento quirinale quindi elezione di Mattarella ma che cazzo di chiarimento serve abbiamo evitato Berlusconi ma per l'amor del cielo descrivere tutti i passaggi dall'inizio alla fine che Conte ha vissuto che con le parole sentite le parole dette la situazione vissuta che ha portato a non riuscire ad eleggere una donna una prima donna al quirinale ma comunque a grazie parlamentare del Movimento 5 Stelle a evitare anche grazie parlamentare dei 5 Stelle a evitare che Presidente della Repubblica fosse Berlusconi che fosse Casini che fosse Amato e che fosse Draghi perché lo volevano tutti come volevano tutti Casini pure il PD voleva Casini e pure il PD o parte del PD voleva Draghi io non penso che sia un brutto risultato qua l'unico chiamiamolo particolare imperfetto è che Conte non ha messo il cappello sull'elezione di Mattarella perché poteva dire io ho puntato al all'obiettivo grosso donna al quirinale e non sto a dire eh che doveva probabilmente era la Belloni come anzi sicuramente era la eh la Belloni non ci sono riuscito ma nel frattempo il gruppo parlamentare del 5 Stelle ha lavorato per aumentare far aumentare i voti per Mattarella per creare una eh soluzione buona alternativa ok? Benissimo che chiarimenti ci sono ottimo risultato forza ragazzi incrociamo le dita perché qua bisogna lavorare mica litigare Antonio Rossi ma vai a farti un giro in monopattino e togli della politica che è meglio oggi abbiamo gente meravigliosa perché Antonio Rossi non so se sia il nome vero la fotografia ce l'ha il signorino qua ma è meraviglioso perché rappresenta proprio quell'italiano incapace di discernere i fatti e di capire che a me hanno debitato il monopattino c'è stato Salvini che per un anno ha eh in tutti i suoi interventi in aula nel conte due ha ricordato il sottoscritto e il monopattino che è tra l'altro che può piacere o non piacere ma per chi lo usa gli ha cambiato la vita ma cambiata letteralmente perché se lo porta in treno quindi arriva in stazione se lo carica sul treno scendo la stazione lo riapro e vado nell'ufficio di Milano nell'ufficio di Roma di Torino del o della città in cui lavoro senza inquinare e risparmiando i soldi quindi ogni volta che mi addebitano un monopattino perché è roba nostra altro che Cingolani la sua transizione ecologica ne abbiamo fatta più noi col monopattino di transizione ecologica che Cingolani e il suo pensare e ragionare sulle nucleare a me mi fanno solo una cortesia quindi Antonio puoi tranquillamente andartene perché di eh di persone del tuo livello in queste nostri dialoghi e dirette non ne abbiamo bisogno ma grazie di ricordare che grazie al sottoscritto oggi centinaia di migliaia di persone utilizzano monopattino che ha semplificato la vita e l'ambiente vince Daniele Pisciotta centodieci per cento bloccato da cassa depositi e prestiti stanno smantellando le nostre battaglie che stiamo a fare al governo Daniele Pisciotta io in questo governo non ci sarei entrato mai e ci sono entrato esclusivamente grazie alla democrazia diretta e alla votazione degli iscritti che vedo un po' latitante e spero e questo io temo che non sia stato raccontato a sufficienza a Giuseppe dai suoi consiglieri più stretti eh da quando è diventato presidente dei Cinque Stelle che la democrazia diretta è la spina dorsale del Movimento Cinque Stelle io l'avrei utilizzata anche nella partita del Quirinale hanno deciso tra l'altro io ogni volta e lo dicevo in faccia dicevo in faccia non è una fronte nelle riunioni con i colleghi deputati senatori Giuseppe Conte dicevo Giuseppe guarda che noi siamo l'antitesi dell'SMS che ci arriva sul telefono due minuti prima del voto segreto nell'urna segreta per il Quirinale noi siamo quelli della democrazia diretta non vuoi fare le Quirinarie ma rendi pubblici i nomi e a un certo punto facciamo in modo che si votino si è deciso che la strategia era riservatezza totale oggi si può dire che seppure è andata bene non mi pare che il metodo dei vecchi partiti che della riservatezza e del silenzio totale abbia portato ad un risultato prospettato cosa ci siamo al governo io penso e spero io lo continuerò a fare un po' come una mosca bianca eh ti dico la verità però vedo che c'è un po' di fermento tra i colleghi forse hanno capito che in quest'ultimo anno bisogna alzare un po' la voce a partire dai ministri che devono iniziare a contestare già in Consiglio dei Ministri i provvedimenti che non vanno bene e i parlamentari nelle commissioni prima che arrivino i provvedimenti in aula perché troppe cose non vanno bene e se non le miglioriamo avete ragione non c'è più ragione di stare in questo governo Sara Wisman ciao Sara rispetto al discorso di Mattarella sugli impresentabili della politica in odore di mafie dintorni quali iniziative del Movimento Cinque Stelle possano andare in porto eh non lo so cosa possa esserci oggi tu ricordati che questo governo di larga maggioranza è il peggior governo che ci possa essere anche tecnicamente perché qual è l'impostazione metodologica è che o tutti sono d'accordo oppure non si fa quella determinata cosa quindi io temo che qualche piccolo problema ci sia una cosa però stiamo stressando questo è importante eh e non è neanche una legge ma rientra nel regolamento di Camera e Senato i volta gabbana chi entra in Parlamento grazie a quel determinato partito se decide di abbandonarlo e di fare il trasfugo non porta con sei soldini perché voi sapete che i gruppi parlamentari prendono i soldini più numericamente ampi sono e più soldini se invece l'aumento del numero dipende dai trasfughi non hai più neanche un soldo non hai più neanche un ufficio e così via insomma Marcello Pilato quale democrazia diretta con i quesiti guidati e fuorbianti non si possono chiamare democrazia diretta Marcello tu sai vero che stai parlando con una persona che è molto schietta e ci perde eh in in a livello personale perché sai molti hanno un'impostazione non mi permetto mai di criticare altrimenti sto sui coglioni a qualche d'uno che comanda e quindi non mi danno incarichi me ne frega proprio un cazzo hai ragione hai perfettamente ragione però ricordati che l'iscritto 5 stelle è persona evoluta è persona che conosce il movimento è persona che eh può diciamo andare oltre risolvere eh le imprecisioni chiamiamole così che ci sono che ci sono state in qualche votazione online comunque viva la democrazia diretta e speriamo che si torni a votare e speriamo che la scelta dei portavoce continua a dipendere dalla democrazia diretta sia eh sì un'amica ha scritto non stiamo votando nulla hai perfettamente ragione De Lillo Antonio ma è vero che è stato fatto un decreto che prevede il pagamento della pensione dei parlamentari anche se la legislatura finisce prima? no caro Lillo penso anche se ehm non l'ho seguita questa situazione qua perché è una cosa da consiglio di presidenza e cioè presidente di camera del senato vice presidenti questori segretari oppure da quell'organo di giudizio interno no tecnica ti dico tecnicamente non è assolutamente così forse qualche cosa è successo in conseguenza di ricorsi fatti da singoli parlamentari ma non riesco a darti una risposta precisa mi informerò e se ci sarà nella prossima diretta te lo te lo dico Sebastiano Consoli bel messaggio ciao Sebastiano per un bel bicchiere di vino giustamente ciao Danilo sei una delle poche persone che stimo e mi dispiace tantissimo che ti hanno sostituito i traditori come ministro di sicuro non troveranno di meglio comunque parecchi dei 5 stelle sono andati via il nostro movimento è sceso vertiginosamente ed il trentatré per cento non lo prenderà più nessuno se non vi decidete a dare segnali forti ma molto forti e subito mio malgrado non vi seguirò più stacchiamoci dal PD un caloroso abbraccio allora ehm io rimango fiducioso io sono conscio del fatto che molti miei eh fratelli e sorelle che combattono da tanti anni nel movimento oggi siano diversi siano cambiati io vi dico a tutta verità che sono diverso e cambiato come preparazione eh come attività parlamentare ma come approccio alla politica no io sono quello che ti dice e non ne sto sentendo tanti cazzo che la politica di professione è un male del paese casini eh che eh in tanti io spero non e cinque stelle spero non e cinque stelle ehm anche se qualcuno dubito che qualche anzi sono convinto qualche d'uno lì dentro magari ehm è in politica da quanti anni ragazzi trent'anni magari pure quarant'anni non lo so ma voi vi ricordate la legge casini famosissima o il demendamento casini famosissimo che ha migliorato la vostra vita no ma che non l'ha fatto perché faceva politica fino a se stessa che ha solo il fine di rinnovare la tua posizione migliorarla o minimo rinnovarla e quindi non fai bene la gente e quindi cosa fai tu eleggi un presidente della repubblica un professionista che è un eloquio straordinario ma che di fatto non ha fatto una legge importante in trenta quarant'anni di parlamento ma di che cazzo stiamo parlando e ma invece una certa mentalità e un certo modo di fare un certo livore lo vedo anche nei cinque stelle che quando invece si schiarisce e fai vedere fai tornare a vedere che cos'è il movimento cinque stelle dovrebbe tendenzialmente scomparire Anna Bellesso ciao Anna non sono stati un bello spettacolo con gli applausi della Meloni di molti altri non perché Mattarella dicesse cose sbagliate sì io ti dico io ho partecipato a voi sapete tanti di voi mi avete anche giustamente criticato ci mancherebbe altro su Mattarella ma io lo sappiamo tutti com'era la situazione ragazzi lo sappiamo perfettamente tutti come cavolo erano alla situazione erano c'erano rimasti io dicevo Mattarella e eh e Draghi quindi Mattarella significava non mandare Draghi al Quirinale nelle ultimissimi giorni ti dico vi dico venerdì c'era Casini Casini che secondo te avessi fatto solo un mezzo accenno passava perché nel PD sapete che è stato eletto anche nel PD dopo essere stato eletto nel centro-destra passava quindi io non voglio dire perché non mi permetto di dire che sia male ma rispetto alle alternative ci è andata bene ragazzi come perché sarebbe stato veramente veramente peggio come come situazione io Mattarella l'ho applaudito io Mattarella ho partecipato affinché venisse eletto voi lo sapete Conte stava gestendo la pratica completamente riservata senza far trappelare alcun nome contemporaneamente in Parlamento crescevano crescevano il consenso di Mattarella grazie a Dio altrimenti ci troveremo Draghi o Casini Danilo Franco Dozza Danilo ma tu credi che dietro gli attuali parlamentari cinque stelle si sarà un buon ricambio visto proprio il problema dei due mandati io non lo so Franco io ti dico una cosa che la politica quasi sempre ti cambia e quando va bene ti toglie il coraggio per due motivi perché lottare è molto più difficile di stare fermi e perché se ti sei fatto male tendenzialmente o sei come il sottoscritto che diceva tanto io so che sto qua poco e quindi faccio di tutto per costruire fare più cose possibile più risultati possibili o come vi dicevo prima quando ti hanno dato la bastonata sulla mano e c'ho ancora i lividi e devo fare quella cosa lì giusto e per farla li devo rimettere la mano lì orco cane se non lo so se alcuni lo fanno quindi state certi che la forza e il coraggio magari anche un po' di avventatezza eh del nuovo portavoce porta più risultati a casa io vi faccio una ti dico una cosa che è proprio inconfutabile ma eh ma tutto quello che ha fatto il movimento cinque stelle ragazzi miei l'ha fatto nel conte uno eh l'abbiamo fatto nel primo anno che eravamo lì perché siamo arrivati carichi forti fortissimi e anche se avevamo il peggiore alleato possibile che era Salvini che andava solo in giro a fare propaganda prendersi meriti degli altri attaccare gli altri che invece avevano fatto le cose belle e io ero proprio quello più interessato di eh di di questa cosa qua ragazzi miei eh noi lì abbiamo fatto tutto e abbiamo fatto tutto lì poi dopo ci siamo un po' indeboliti soprattutto nel coraggio quindi sì i nuovi hanno più coraggio e la preparazione che gli manca io sono disposto se riesco ovviamente a pagare le mie spese il mutuo la luce di casa il gas e mantenere la famiglia io sarò sempre disposto a dare tutti i consigli e le competenze che ho acquisito ai nuovi portavoce ok fateci votare Raffaele Vilella sì si voterà si voterà eh tra un anno salvo che non capiti non capitino determinati cataclismi quindi stiamo tranquilli che il voto c'è ora però bisogna puntare eh la lampadina e la luce su Draghi perché è adesso che il lavoro sul piano nazionale di ripresa e resilienza si si vede perché prima era solo sulla carta e adesso invece i cantieri si devono aprire e vediamo quanto sia del migliore questo governo Lorenzo Vairo ciao Danilo vorrei chiedere alcune cose sono un attivista del movimento e svolgo volontariato nel mio piccolo comune cosa mi sai dire riferimento ai corsi di formazione Lorenzo Caro non non è la mia materia io purtroppo so tanto mi cerco di informarmi dalla mattina alla sera ma su questo non ho eh consapevolezza se tu riesci a specificare meglio la domanda la prossima volta ti rispondo Franca Romito non dobbiamo dire io sto con Di Maio sto con Conte giusto dobbiamo dire tutti insieme io sto con il Movimento 5 Stelle si sbaglia si chiede scusa e si va avanti ma uniti se no è finita giusto 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 lo dico sempre anch'io e leggerlo e sentirlo da parte di altri è ancora più bello e più forte per me Francesca Ledda cara Francesca io ti dico che eh sono totalmente favorevole al limite dei due mandati punto te l'ho già detto adesso sarai sarai collegata magari in ritardo la politica di professione è il fallimento del sogno di reali di realizzare scusate dell'obiettivo di realizzare i sogni delle persone che ti hanno mandato in Parlamento perché io ora eh cosa dovrei fare eh se pensassi al al terzo mandato dovrei lavorare per spingere Conte a cambiare idea dovrei andare eh a ehm a a rendermelo amico leccare un po' il sederino per ehm che cosia magari mi mette tra l'elenco di quelli della della ma che cazzo stiamo dicendo io continuo a lavorare riunioni su riunioni per cercare di migliorare tutto quello che è il lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle in Parlamento e non solo poi dopo mi troverò il giorno in cui sono fuori a Parlamento mi guardo indietro chi ci sarà non lo so ma sono un portavoce del Movimento 5 Stelle non sono un parlamentare di un altro partito è questo che bisogna fare Roberto Rodono chi posta le domande non ha la mia parliamo della RAI eh caro Roberto tu hai toccato un argomento incredibile abbiamo la riforma della RAI in commissione è tutto fermo sapete da quando ce l'abbiamo dal 2016 con la prima firma di FICO è stata ripresentata Camera e Senato eh praticamente paro paro è tutto fermo che sia tutto fermo cari amici io quasi quasi lo do per scontato considerato gli alleati che avevamo e che abbiamo ma che noi si stia zitti e non si alzi la voce e non si rompano i coglioni sulla RAI e anche sull'argomento del conflitto di interessi a me questa cosa mi fa incazzare perché non è che se gli altri non sono d'accordo una cosa giusta io me ne sto ditto perché questo non è il modo di fare del movimento 5 stelle perché quando tu alzi il polverone e porti le persone a parlarne i giornali a parlarne è questo che crea un tantam che mette pressione ai partiti che sono contrari alle riforme necessarie al paese forza ragazzi Roberto Aita o Aita invece sì caro Toninelli la pensione vostra deve essere equiparata a quella degli altri il periodo che fate come parlamentari deve essere accumulato gli altri periodi periodi lavorativi ed andare in pensione a 67 anni come tutti gli altri Roberto sì e ti ricordo e ti aggiungo che non solo abbiamo presentato esattamente la proposta che tu fai mai ma noi non altri abbiamo cancellato il vitalizio che è la vera pensione d'oro e che veniva data a migliaia di ex deputati e senatori il giorno successivo dall'uscita del parlamento dal parlamento anche se avevano fatto poche settimane o pochi mesi quindi su questo argomento guardate ragazzi è proprio l'argomento in cui abbiamo portato a casa maggiori risultati Gianni io avrei stretto la mano a casini ti sareste congratulato allora io sapete che la maggior parte dei colleghi in senato non li saluto non ce la faccio lo so che sbaglio perché mi faccio un sacco di di nemici di fatti sono uno dei parlamentari più attaccati nonostante non abbia incarichi di governo incarichi particolari nel Movimento 5 Stelle no mai ma non lo faccio ora che non è eletto presidente della Repubblica ma mi sarei guardato dal farlo ma proprio non li saluto non incrocio neanche lo sguardo di certe persone perché da cittadino io mi sento mi sento a disagio per persone che di cui non ho eh alcun tipo di stima e mi fermo qua e non parlo di casini perché ce ne sono altri che urlano vendetta Silvana Borza il limite dei due mandati mi preoccupa mi dispiacerebbe perdere persone come te Luigi Nicola Morra Barbara Letti Silvana questa è la eh il pensiero e il ragionamento di tanti però ragazzi eh noi dobbiamo guardare al movimento non ai singoli seppur ci sia qualche d'uno e umilmente mi metto dentro tra questi pochi che non sia cambiato e che abbia tenuto la stessa eh semplicità e intransigenza del primo giorno tantissimi hanno perso completamente queste caratteristiche e eh agiscono e vivono di mera tattica di mera convenienza per ottenere qualcosa per sé perché il bene del movimento è quello per cui i i politici professionisti non devono esistere perché se uno su cento è rimasto buono e rimarrebbe buono anche il terzo mandato o anche dieci su cento anche cinquanta su cento gli altri cinquanta che invece sono cambiati e che rimano contro quelli che sono rimasti buoni capisci che è è finita via due mandati va benissimo avanti così Francesco Zampetti si dice che tutti i partiti rimarranno contrari ai nostri ai nostri provvedimenti Edoardo Moneta il vitalizio non dovrebbe servire a garantire l'indipendenza del parlamentare erano altri tempi caro mio il vitalizio nasce nell'epoca post fascista eh vitalizio nel il vincolo di mandato nasce dall'epoca eh in cui capisci bene che eh bisogna la situazione era diversa i livelli democratici erano diversi quindi capisci bene che sono cambiati i tempi sono cambiati completamente i tempi oggi il parlamentare deve avere le stesse situazioni di un cittadino normale mina massa mi fa ridere la meloni che sbraita perché è stato rieletto mattarella però non dice che ha salvato il suo stipendio che ipocrita questa mezza calzetta sì sulla meloni ragazzi sì ma mi date una mano a volevo farvi commentare una cosa vi prego perché eh c'è una roba meravigliosa nella sua trovate voi l'aggettivo non lo dico è Brunetta ne ha sparato una delle sue io so che parlare di Brunetta è come sparare sulla croce rossa però questa ve la devo dire perché Brunetta è ministro da un anno è ministro della pubblica amministrazione di tutti i milioni di dipendenti pubblici che abbiamo in Italia ed è uno che in un anno io mi domando e lo domando a voi ma che cosa ha fatto Brunetta in un anno informatizzato i sistemi velocizzato le procedure semplificato le cose semplificato la vita ai cittadini o alle imprese che hanno relazione con la pubblica amministrazione no però guardate cosa ha detto oggi ragazzi Brunetta è contro lo smart working perché Brunetta guarda io ce l'ho in qualche cassetto come Cimelio vi ricordate Nokia 3210 perché Brunetta è analogico lui ancora con lo schermo da mezzo pollice perché lui lui non è non è che è contro lo smart working lui non lo capisce lo smart working e quindi fa questa dichiarazione qua ieri o sì penso ieri in televisione dice va contro i dipendenti pubblici in smart working perché sono a casa con il telefonino sulla bottiglia del latte lasciate stare che non so che cazzo di metafora che fosse venuta in mente sulla bottiglia del latte il telefonino ma che che cazzo significa ma questo significa proprio come noi abbiamo un ministro di milioni di dipendenti pubblici che è rimasto agli anni 80 quando è che c'era il Nokia 3210 90 forse inizio anni 90 che manco me mi ricordo eh sì probabilmente siamo con lui è rimasto lì più pensa che col telefonino si manda un sms se questo è proprio fatto piano però eh ditemi se sbaglio perché se no mi mi riquerela eh per questo si dico che è analogico forse per lui è analogico eh di diffamatorio avete capito ragazzi lo smart working ha salvato il paese in questi due anni di covid ma voi vi rendete conto i milioni di bonifici di aiuti di ehm eh non solo reddito di cittadinanza ma eh reddito di emergenza i bonus per le partite IVA per gli imprenditori la cassa integrazione gestito dall'Inps in cassa integrazione che ci sia qualche stronzo che se ne approfitta lo sappiamo caro ministro Brunetta ma che tu dica che pia che devono rientrare tutti quindi vanno sui treni vanno inquinare vanno a spendere vanno a rischi a contagiarsi a contagiare è una minchiata colossale perché lo smart working è stata la salvezza di questo paese senza smart working sarebbe stato un disastro sociale totale e e non ci sarebbe stata possibilità di gestire il covid forse che forse sei tu che non capisci che cos'è lo smart working anche perché ti domando signor Brunetta se avessi fatto qualche cosa attraverso lo smart working oggi tu sapresti valutare se il dipendente pubblico che lavora da casa ha lavorato oppure no o no vai andiamo se non si incatta gratis Sonia Antares Brunetta soffre di proiezioni siccome lui è pannullone crede che tutti siano come lui e non lavori smart working in questo cara Sonia è un ragionamento di natura psicologica ha ragione perché si pensa sempre che gli altri siano facciano come come sei o fai tu esatto Nadia Brunetta ha rovinato la pia nel 2008 insomma ragazzi dopo 40 minuti e con Brunetta forse che forse forse dice davvero il palmare troppo non farmi leggere cose perché poi mi guarila eh ok ragazzi io abbiamo parlato di tante cose spero che sia stata una puntata divertente per me questa è una boccata di ossigeno ve lo dico e vi ringrazio perché da quando faccio queste dirette pochi mesi io sento che c'è fermento che il movimento è vivo è più vivo fuori che dentro tra i portavoce c'è un attaccamento verso un simbolo straordinario abbiamo abbiamo il nostro Beppe Grillo abbiamo il nuovo presidente Giuseppe Conte che va consigliato di più va consigliato meglio eh per capire quanto sia forte che come sia fatto il Movimento 5 Stelle quindi ragazzi viva noi viva il Movimento 5 Stelle stiamo uniti diamo una mano al nostro paese che senza di noi è tecnicamente e certamente perduto grazie di cuore ragazzi grazie di cuore per questa per questa puntata ci vediamo martedì ok segnatevi l'appuntamento sempre insieme martedì e venerdì con controinformazione ciao a tutti ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti